Uè! Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAGLE! Uè! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi potrebbe andar via la CAM ve lo dico subito non c'ho voglia di ricominciare a farlo per la quarta volta Oggi la CAM va un po' così Nel video di oggi ragazzi volevo appunto parlarvi di tutte le news inerenti queste 24 ore di Fortnite Oramai manca pochissimo all'arrivo di Halloween quindi all'arrivo del Fortnite Mers Non si è ancora capito perché hanno tolto i replay e quindi sono costretto a far correre così il mio personaggio allegramente nelle partite rissa squadre Ma a parte questo ragazzi ovviamente il punto più importante che in queste ore sta prendendo tutta la community di Fortnite è il Mint Axe Questo è il suo nome corretto il piccone di Halloween quello dedicato Oggi voglio darvi un po' di informazioni voglio nuovamente schiarirvi le idee dicendovi anche delle novità che sono appunto arrivate E soprattutto cercare di evitare che voi siate truffati da chi dice di avere dei codici Parleremo però anche e vi farò vedere un'immagine di uno stile molto interessante del pesce secco Che potrebbe arrivare il 29 ottobre un giorno importante per Fortnite Per tanti motivi ne parleremo durante il video soprattutto perché arriverà la prossima patch ufficiale Quindi il Fortnite Mers è ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi fanno compagnia nelle mie live su Twitch Dalle 8 alle 18 e ovviamente grazie ragazzi anche a tutti quelli che mi supportano inserendo il codice creator Xuderone quando fate le vostre show pazzate di prepotenza grazie davvero ragazzi per il vostro sostegno Mi raccomando iscrivetevi ai canali e soprattutto Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video Prima però la domandina io ve la devo fare molto rapida molta spiccia molto veloce Ma non posso non chiedervelo qual è la tua preferita dai raga Ieri sono usciti hanno avuto il coraggio di far uscire 8 calciatori a tema zombie quindi di Halloween Il vostro preferito qual è il mio personalmente è l'ultimo della prima fila a destra Non ricordo il nome se devo essere sincero ma davvero bello bello il colore Bella la skin che ovviamente abbiamo già visto come calciatore normale quindi mi piace tantissimo Ditemi qual è il vostro preferito anche col nome qua sotto nei commenti Ma quindi ciancio alle bande E bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a parlare del 29 ottobre Perché c'è la ghoul trooper perché il 29 ottobre è importante Beh come avevo già detto il 29 arriva la patch già programmata con l'introduzione del fortnightmars Quindi l'evento dedicato ad Halloween Nonostante abbiamo già ricevuto la possibilità di acquistare un sacco di skin a tema horror tra virgolette Ma il 29 ottobre potrebbe anche tornare la ghoul trooper In quanto sarebbe esattamente il secondo anno dalla data di rilascio di questa skin E' stata appunto rilasciata il 29 ottobre del 2017 Ricordo anche che tutti quelli che già possedevano una ghoul trooper hanno ottenuto lo stile rosa oggi Mentre chi la acquisterà adesso otterrà invece uno stile completamente nuovo Che è nient'altro che verde chiaro con i capelli bianchi Quindi ragazzi andiamo a incrociare le dita E speriamo veramente che questo 29 ottobre sia fortuito per noi e ovviamente per la ghoul trooper E andiamo avanti invece con il prossimo argomento E dai è lui ragazzi è lui Qui in realtà non si parla d'altro in questi giorni sui social, su Reddit, sui siti dedicati, Instagram Insomma il Mint Axe Dov'è? Dove arriva? Perché c'è un Mint Axe? Oramai lo sapete anche voi benissimo Il piccone è dedicato ad Halloween Versione super rara del piccone Che verrà rilasciata sotto forma di codice da sgrattugiare nei vari rivenditori Problema numero uno il piccone non è rilasciato in Italia Quindi non ci sono per il momento delle catene che potrebbero essere GameStop ad esempio Che hanno un'affiliazione con Epic Games Il piccone viene rilasciato in America, in Germania, in Francia e in Inghilterra Quindi i codici dagli italiani sarà un po' difficile che li otterrete Io ho un contatto americano, se riesce a farmi avere qualche cosa Cercherò in qualche modo di farveli avere anche a voi Il codice del piccone ragazzi è uno e solamente uno Io lo so adesso voi dite Xyuder guarda che a me mi hanno dato i codici Io ho fatto, ho riscattato, ho preso, ho disfatto Ho quattro picconi, no sono cazzate Nel senso ve lo dico proprio semplice semplice Allora, quando voi andate, innanzitutto vi faccio vedere i codici che non valgono Quindi perché mi li mandate proprio a profusione su Instagram E no, questi ragazzi non funzionano Anche perché non ne girano molti altri Cosa succede? Quando voi andate a inserire il codice nella vostra pagina di Epic Games Ultima voce del menu a sinistra, riscatta codice È vero che quando lo inserite vi appare il messaggio verde Con scritto il codice è giusto E sotto vi può apparire Minty Hacks Oppure Random Loot Il problema è che non cliccate conferma Perché tutti mi dite Oh l'ho tenuto il piccone No ragazzi no Quando cliccate conferma Che è proprio per confermare l'inserimento del codice Vi dice il codice è già stato utilizzato Esistono i codici già rilasciati in irli tra virgolette Per il Mint Hacks Ma qua in Italia io non ne ho ancora visti Mentre invece è possibile che inseriate un codice E vi dia Random Loot Cliccate conferma e vi dice che va bene Perché quelli invece sono codici che hanno più utilizzi Tipo 100 persone li possono utilizzare Se siete nei primi 100 li prendete Il problema è che non otterrete il piccone Numero 2 il piccone non è presente nei file di gioco Quando arriva bella domanda Non lo sa Ufficialmente nessuno Dicono il 31 ottobre Non ha assolutamente senso Come cosa Dicono il 6 novembre Non ha assolutamente senso Cosa ne penso io O lo inseriscono il 29 quando fanno la patch E avrebbe senso Magari lo mettono criptato E quindi poi lo si decrypterà O lo inseriscono il 5 novembre Però no secondo me Perché no Perché il 5 novembre esce già il bundle Il darkfire bundle Quindi che cosa mi fanno Mi inseriscono anche il piccone di Halloween La vedo un po' strana Comunque il 5 novembre c'è un altro downtime dei server Quindi ragazzi Mi raccomando Occhi aperti Chi dice che ha i codici È un po' È un po' strano nel senso Devolete proprio essere sicuri E come vi ho già detto Se dovete pigliarveli Pagate con Paypal In modo che se c'è qualche problema Avete il rimborso Qua infatti sopra di me È inserito La voce di registro Che appunto parla del piccone Si chiama FN Minty Ma ufficialmente non c'è ancora Mentre qua sopra invece vi dico Quello che vi ho appena detto Del random loot Oppure del Mint Axe Scusate se mi sono dilungato Ma andiamo avanti con il prossimo argomento Che in realtà diventerà l'ultimo Ragazzi Quest'immagine meravigliosa del pesce secco Ha fatto non poco scalpore Ovviamente e purtroppo È un concept Ma è veramente bellissimo È talmente bello Che nei post di Reddit Anche alcuni moderatori Affiliati con Epic Games Hanno commentato E complimentandosi Con chi l'ha creato Questo potrebbe aprire Un barlume di speranza Per far sì Che in realtà Hai capito Gli chiedi i file Te li sistemi un attimo E li infili nel gioco Dando così uno stile Di pesce secco A tema di Halloween A tutti Quelli che lo stanno chiedendo E posso garantirvi Che sono migliaia Le persone su Reddit Che chiedono Uno stile Una variante Per pesce secco E tanto ce l'hanno proposto In tutte le salse Come un pescatore Come un pirata Poi me l'hanno fatto spaziale Poi me l'hanno fatto normale Insomma ragazzi Fatecene uno di Halloween Che sian tutti contenti Ragazzi Ci siamo dilungati Un pochettino troppo Il video per oggi è finito Però vi ringrazio tantissimo Per averlo guardato Mi raccomando Iscrivetevi ai canali Noi ci vediamo Dalle 8 In live su Twitch Ciao